Il mostro a occhi azzurri, il delitto di Ponticelli. Questo è il titolo del libro della giornalista Giuliana Covella, edito da Guido Editori, presentato a Napoli presso la sede del Consiglio regionale della Campania. Il testo tratta dei cosiddetti mostri di Ponticelli, quartiere orientale della città. Ripercorre la cronaca del luglio 1983, di quando cioè vennero rinvenuti i cadaveri di due bambine nel torrente Pollena. Si trattava di Nunzia Monizzi, di dieci anni, e Barbara Sellini, di sette, che vennero violentate e barbaramente uccise, di lì sospetti dell'atroce delitto sul maniaco della zona, per poi individuare i mostri in tre giovani incensurati, che senza alcuna prova vennero condannati all'ergastolo. Sono diverse le tematiche che affronta questo libro sul delitto di Ponticelli. Da un lato c'è il potenziale errore giudiziario, dall'altro c'è la violenza sui minori. E comunque sia, si ruota tutto intorno al tema della giustizia, molto attuale, specie in questi giorni, proprio per sensibilizzare anche le nuove generazioni a queste tematiche. Parliamo di un errore giudiziario ed è importante oggi portare questa esperienza, questo libro all'interno delle scuole per far capire che oggi le scuole, diciamo, i ragazzi hanno bisogno di sapere determinate realtà. Gli errori giudiziari sono tantissimi. In 31 anni in Italia 30.000 persone sono uscite innocentemente dalle carceri. Sono due tipi di categorie. Quelli che sono usciti innocentemente stavano in carcere, in custodia cautelare, agli arresti domiciliari. E quelli che con una condanna definitiva sono stati assolti in seguito a processi di revisione. Ora io mi chiedo e vi chiedo, se una persona esce dal carcere innocentemente, chi paga? Lo Stato, cioè i cittadini. E allora dobbiamo incominciare a evitare la custodia cautelare. Su 61.000 detenuti in Italia, 30.000 sono in custodia cautelare, cioè potenzialmente innocenti. Dobbiamo poi stare attenti. C'è il rischio che una persona entra in carcere e deve dimostrare lui che sia innocente. Noi ci auguriamo che sia lo Stato, la magistratura, a dimostrare che questa persona sia colpevole.